Alvia la sesta edizione di 30 volte volontariato, la manifestazione organizzata dal CESVOT per dare voce alle associazioni. Un mese di iniziative che culmineranno il 16 giugno con la festa finale in Piazza delle Carceri. Tutta l'attività sarà documentata dalle foto dei volontari pubblicati su Instagram. Le tre migliori, su una rosa di 10, saranno premiate da un'apposita giuria. Durante l'apertura del 30 volte tutte le varie associazioni svolgeranno eventi particolari all'interno delle loro associazioni e con l'evento finale conclusivo il 16 giugno in Piazza Santa Maria delle Carceri dove si presenteranno una trentina di associazioni che con stand manifesteranno le loro attività. Tutto questo sarà intervallato da musica e una radio web che farà raccontare ai volontari che cosa vuol dire fare solidarietà qui a Prato. Tra gli altri appuntamenti è anche la visita straordinaria al cantiere di restauro della chiesa di San Francesco con l'associazione Amici dei Musei. Il 15 giugno un convegno presso il Giardino Buonamici dal titolo Dialoghi sul sistema sanitario. Di che cosa è oggi il sistema sanitario, quali sono le criticità e le opportunità per migliorarlo. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Prato impegnato anche in un percorso di gestione degli spazi pubblici in collaborazione con le associazioni. Le associazioni si prendono in carico un peso importante per esempio nel regolamento dei beni comuni che riguarda Prato la gestione sostanzialmente di uno spazio pubblico, rifunzionalizzare lo spazio pubblico, creare occasioni di socialità all'interno di quello spazio.